Ciao a tutti, sono Jill Cooper e sono tornata con una prova. Una prova perché gran parte del mio lavoro è di testare, di provare e constatare i prodotti per voi. Quello che funziona per me ve lo porto, quello che non mi convince non vedrete mai. Perché non ve la porterò mai se non mi convince. Invece adesso sto provando questi nuovi prodotti di Foodspring e mi piacciono da morire perché chi mi conosce sa che nel 2015 ho preso una decisione radicale di cambiarmi la dieta. Ho dato un voto di non bere per 1.335 giorni, ho tolto la carne, ho tolto il latte perché ho letto la China Study e ho cominciato a curarmi, a stare estremamente attenta non soltanto a quello che mangio ma anche quello che uso per i capelli, per levarmi, non uso più bagnoschiumi, uso soltanto i saponi naturali. Alla fine, se volete avere una performance del vostro corpo a 360 gradi, devi assolutamente curare l'alimentazione. Però, qual è il problema dell'alimentazione oggi come oggi? E trovare sempre, costantemente, il prodotto organico, naturale, allo stato migliore, a portata di mano. Perché noi sappiamo, va ad un ufficio perfetto, ho una fame pazzesco alle 11, che cosa devi fare? Non puoi uscire, non puoi andare al bar, ma anche se vai al bar troverai soltanto tramezzini, pasterelle, corneti fatto 48 anni fa, insomma, roba che non è salutare per il corpo. Così io vi invito di cominciare a giocare in offensiva, cioè cominci a portare il cibo buono con te, il cibo sano con te, il cibo intelligente con te e l'ho trovato in queste palline. Ci sono, si chiama smoothie balls e sono fighissimi perché la mattina, lo sapete che io la mattina amo di fare il mio frullattone. Di solito metto lato di cocco, ananas con il gambo d'ananas e facciamo, ti faccio vedere, ti faccio vedere fra poco come faccio le mie smoothies. Ma la cosa più bella è che io posso aggiungere lui, fai caso, velocissimo, devi andare al lavoro, non c'ho tempo, ho soltanto lato di cocco a casa, bingo, non ho più bisogno di avere la frutta fresca perché posso usare una di queste palline, sono cinque palline per, cioè giallo, verde e purple, che vuol dire viola, ok? Ma c'è un'altra cosa che ho notato di questi smoothie balls, ragazzi, portateli con voi e lo mangiate come snack. Non vedete il colore? È buonissimo, sicuramente i miei denti stanno diventando rossi. Allora, leggiamo insieme, abbiamo datteri, barbabietola, tiger nuts, anacardi che io vado matta, goji, HI, ok, organico, HI ragazzi è un bomba proprio per quanto riguarda antiossidanti. Andiamo a leggere il giallo. Il giallo, allora il giallo abbiamo datteri, anacardi, chia che è eccellente per l'omega 3, turmeric che è come curcuma, è la parte gialla, guaranà per avere un po' di energia, acerola che è comunque vitamina C, polline, Jerusalem artichokes che sono in divia, che è importantissimo ragazzi perché hanno prebiotici che ti aiutano, adesso flora batterica, lo sai che io sono pazza della microbiota, la microbiota è quella che è il secondo cervello del corpo, ci aiuta il sistema immunitario, ci aiuta ad essere più concentrato, dormire meglio, avere meno ansia e di nuovo, ecco, questa è la nostra palla gialla, ah, viene fuori palla gialla, ok, la palla gialla, ok, andiamo a vedere la nostra palla verde, questo è un altro, palla verde, queste sono, guardate, 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 queste mi sono letteralmente impazzite perché io vado matta per i frullati, ok, il verde, il verde contiene datteri, spinaci, anacardi, semi di lino, spirulina, top, wheatgrass che è l'erba del grano, la matcha, il tè matcha, è tutto organico, ok, così io la prossima volta che non sapete che mangiare, ma volete mangiare bene, volete trattarvi con rispetto, portala con voi, diventa una sorta di, di altro che baretta energetica, questo diventa un saluto puro perché è organico, pieno di frutti e verdure che il nostro corpo conosce, sa interagire con questi alimenti che sono altamente biodisponibili, che ci permettono di avere la salute con noi perché noi siamo programmati a mangiare questa roba qua, questo è il nostro carburante, mangia la carburante giusto e la tua salute, il tuo fisico, la tua concentrazione risuonerà al meglio, grazie a loro, ok, andiamo a fare una smoothie insieme. Grazie a tutti, grazie a tutti. Avete visto quanto è facile fare i vostri smoothie? Va, batti il baleno, lo frulli, lo metti insieme, tutto a posto, pochi secondi, portate la salute con voi e ricordate, ci sono sconti per i miei amici su Foodspring, leggete qua sotto, ne metterò il codice sconto per voi di andare sul loro sito e provare questi prodotti che sono veramente organiche, buone e perfette per la vostra salute, ok? Se vi è piaciuto il mio vlog, mi raccomando, cliccate il like, condividete e iscrivetevi al mio canale e vi aspetto alla prossima con altri consigli per il vostro benessere a 360 gradi. Baci!